Vede pezzosi, io non la capisco, la nostalgia, anzi mi fa schifo, sarà perché ho 25 anni o forse perché ho vissuto tutta la mia vita in un paese devastato, ma io non ho nostalgia di nulla, io devo solo correre in questo mondo di merda, che odia me e tutti quelli come me, è un lusso riservato a voi, la nostalgia. Quello che non capisco però è perché dovrebbe averne un privilegiato come lei, lei che è il prodotto di un sistema criminale, di un secolo intero di tragedie, guerre, sangue, straci, persecuzioni, nazismo, comunismo, razismo, sessismo, omofobia, violenza contro gli animali e tutto questo sistema. L'avete fatto voi, avete riempito gli oceani di plastica, vi siete indebitati fino al buco di culo, adesso i vostri debiti li dobbiamo pagare noi. Ci avete lasciato senza lavoro, senza futuro, e adesso? Fate anche i nostalgici, mandate il culo tutti voi che avete 50 anni, c'è del malassoluto cazzo, io la rifiuto tutta la vostra cultura, tutta quanta, eh? E che c'è da ridere, eh? Che lei è il simbolo di questa tragedia, lei che si fa chiamare maestro da suo, da suo servitore nero, che poi tra l'altro è una delle cose più raggiste che abbiamo visto in vita mia. No, 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 no.